Buonasera, eccomi qua. Allora, sto preparando la cena e ho detto perché non fare un video e far vedere cosa sto facendo? Vado a preparare stasera, su grande richiesta, ripetuta richiesta di mia figlia, le scaloppine coi funghi, perché è un po' che non le faccio effettivamente, e le vado a fare nella mia Ultra Pro nel microonde. Come già sapete, qui dalla mia nonna quella grande non ci sta, per cui utilizzerò quella rotonda, con il coperchio ovviamente. Allora, prima di questo, voglio farvi vedere un uso alternativo della bellissima ciotola che c'è in offerta questa settimana. E sto parlando della ciotola rosa, con la quale possiamo dare anche il contributo per l'Associazione contro la violenza sulle donne e i bambini. La ciotola multipla da 2 litri, io ce l'ho in un'altra versione. Eccola qua, è uguale, identica, semplicemente cambia il colore, sotto è trasparente e sopra è verde, ma è, come potete vedere, precisa, identica, non cambia assolutamente di nulla. E allora vi faccio vedere come vado ad infarinare le mie scaloppine. Io ho messo un po' di farina all'interno della ciotola, ora vado a mettere un po' di scaloppine all'interno della farina, e poi le andremo ad infarinare senza utilizzare le mani, senza trovarmi farina in ogni dove, semplicemente usando questa ciotola col sigillo chiuso. E' una cosa che non tutti sanno, ma che torna sempre comunque molto pratica. Per cui vado a chiudere il mio sigillo, ecco qui, e gli do una bella infarinata. Come vedete non fuoriesce assolutamente nulla, non mi sporco le mani, e adesso vado a mettere le mie scaloppine infarinate all'interno dell'Ultra Pro. Ecco qui, vedete? Io nell'Ultra Pro ho già messo la cipolla tritata e il dado. Ovviamente, sapete benissimo, ve lo dico sempre, anziché il dado potete usare tranquillamente il sale. E poi, ovviamente, finito di mettere la carne, andrò a mettere i funghi, che sono già tagliati e lavati. Vediamo se ecconi qui un'altra. Che diventa tutto bianco e non si vedono più. Ecco qui, e andrò avanti ad infarinarle tutte. Dopodiché andrò a mettere, come dicevo, i funghi, un pochino di un filo d'olio, ma proprio appena appena, sale, pepe, e io aggiungerò anche la panna da cucina. Mi piacciono queste cose. Dopodiché la farò cuocere a 750 watt per 20 minuti, perché comunque questa carne è molto sottile, i funghi sono tagliati sottili, per cui non hanno bisogno di chissà che tempi di cottura. Si fanno veramente abbastanza velocemente. Ecco qua, adesso finisco di fare le mie scaloppine all'interno del litro pro, poi ovviamente prima di mettere a cuocere, darò una bella girata col cucchiaio, di modo da amalgamare bene tutti gli ingredienti insieme. Ecco qui. Come vedete, non sto facendo assolutamente fatica, non sto sporcando assolutamente nulla, se non il gevello dove avevo riposto la mia carne, ecco qua qui, ho quasi finito. Ecco qui. Vedete che è veramente facile, pratico e veloce. Quindi mi raccomando, non fatevi scappare questa bellissima ciotola, perché oltre a questo potete farci tantissime altre cose, ma soprattutto potete dare veramente un grande aiuto all'associazione WeWorld per la campagna Empowerment Femminile, scusate, l'ho detto in inglese, per aiutare appunto le donne e i bambini che subiscono violenze di ogni genere. Ecco qui, le ultime, e poi ho finito. Come vedete, anche la carne non la prendo con le mani, ma con la pinza, che tutti pensano sia solo una pinza per la pasta lunga, e invece, come vedete, si possono fare tantissime cose. Ecco qui, l'ultimo giro. E poi basta veramente pochissimo, non c'è neanche spreco di farina. Di solito quella che rimane nel piatto, nella ciotola che andiamo ad usare, la buttiamo via, invece in questo caso non c'è proprio nessuno spreco. Ecco qui l'ultima. Ecco fatto. Adesso andiamo ad aggiungere appunto i funghi. Sembrano tanti, ma poi cuocendo sapete che svaniscono nel nulla, quasi si sciolgono. Ecco qui. Ups, uno è caduto. Ora vado a mettere un pochino di pepe. Ecco fatto. Il sale l'ho già messo. Metto proprio un filo appena appena di olio. Poi piuttosto, se voglio, lo aggiungo a crudo quando sarà tutto cotto. E adesso vi faccio vedere anche un'altra cosa. Per dare una bella mischiata al tutto, andiamo ad amalgamare i nostri ingredienti. Ecco fatto. Ora, l'unica cosa, vado ad aggiungere proprio un mezzo bicchiere di acqua, perché sicuramente la carne e i funghi rilasceranno un po' di acqua, ma a me lo spezzatino piace un po' puccioso, no? Per cui vado ad aggiungere proprio un mezzo bicchiere di acqua. Ecco qui. E per finire, aggiungo la panna, come vi ho detto prima. Poi io farò una cosa, a metà cottura gli darò una bella girata, perché ovviamente, quindi dieci minuti, una bella girata e altri dieci minuti. Ovviamente poi vi farò vedere il risultato finale, eh? Quando è pronto ve lo faccio vedere. Ecco qui. Voi direte, ma in questo modo, gli ingredienti non si amalgamano la panna, e invece state tranquille, che si amalgamerà tutto perfettamente. Ecco fatto. Adesso vado a cuocere, e ci vediamo più tardi con il risultato. Ciao! Ciao!